Sono lieto di trovarmi nella vostra bella terra. A vent'anni della visita di San Giovanni Paolo II, e mentre la Romania, per la prima volta di quando è entrata a far parte dell'Unione Europea, presiede in questo semestre il Consiglio Europeo. Camminare insieme, come modo di costruire la storia, richiede la nobilità di rinunciare a qualcosa della propria visione o del proprio specifico interesse a favore di un disegno più ampio, in modo da creare un'armonia che consenta di procedere sicuri verso mete condivise. Questa è la nobilità di Basti. In tal modo si può costruire una società inclusiva, nella quale ciascuno diventi protagonista del bene comune, una società dove i più deboli, i più poveri, gli ultimi, non sono visti come indesiderati, come intralci che impediscono alla macchina di camminare, ma come cittadini, come fratelli da inserire a pieno titolo nella vita civile. Grazie a tutti.